Uomini e mezzi della direzione marittima Abruzzo e Molise in campo nel ponte di Ferragosto nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro 2014. I dettagli sono stati illustrati questa mattina dal contrammiraglio Luciano Pozzolano che ha anche annunciato il ritorno del pescaggio della darsena commerciale del porto di Pescara a 5 metri. Nei giorni di maggior afflusso di bagnanti lungo la rivera abruzzese e molisana il comandante ha invitato la popolazione a mantenere comportamenti responsabili. Oggi siamo appunto alla vigilia intanto auguriamo buon Ferragosto a tutti quanti in particolare a quelli che lavorano su tutti gli aspetti in tutti i rami che afferiscono il mare la balneabilità la balneazione i mezzi nautici quindi il nostro pensiero va a chi lavora per rendere felice questo giorno agli altri ma soprattutto per chi invece deve vigilare e prevenire che avvengano situazioni spiacevoli perché questo ci fa arrabbiare. Le criticità sono più o meno quelle stagionali diciamo che sono stati rilevati a alcune situazioni un po' spiacevoli legate anche a un errato utilizzo delle spiagge come l'occupazione della fascia dei cinque metri o l'utilizzo di giochi a volte anche pericolosi in prossimità della della riva. Parlando del porto di Pescara avete riportato il pescaggio a cinque metri? Sì proprio con l'ordinanza dell'altro giorno abbiamo rivisitato il regolamento portuale riportando a seguito dei rilievi fatti a giugno dal provveditorato i pescaggi a cinque metri per quanto riguarda la Darsena quindi è ripreso e sta funzionando molto bene anche il discorso legato al trasporto passeggeri con il Croazia Jet che sta avendo dei risultati direi anche brillanti in alcune giornate con quasi pieno in partenza da Pescara.